Oggi gioca la Juventus, match day, Juventus contro Nantes. Ma prima di tutto bisogna fare complimenti ai ragazzi, come diceva Massimiliano Allegri spesso e volentieri nel primo ciclo juventino. E per ragazzi intendo ovviamente quelli dell'Under 23, quindi la next gen della Juventus che ha conquistato la sua seconda finale di Coppa Italia Serie C. Ieri sera è stato battuto il Foggia per 2-1 con doppietta di Ewisen che mi sembra aver fatto un discreto gol, il secondo. Un bolide dopo aver portato palla dalla difesa fino al limite dell'aria, poi un bolide mi pare di Mancino che si infila sotto l'incrocio dei pali. 2-1 complessivo, 3-3 totale tra andate e ritorno e Juventus vince per 5-3 ai calci di rigore. E quindi sarà una seconda finale di Coppa Italia Serie C per la Juventus Under 23, da quest'anno si chiama next gen, che sembra essere tutto tranne che un carrozzone dove ficcare i giocatori, tutto tranne che operazioni di plus valenza, praticamente delle X segnate sui fogliettini, atte ad andare ad alterare la competitività del campionato, atte a voler rivoluzionare un po' quello che sono gli equilibri del calcio in Italia. Queste sono cose che abbiamo già affrontato, già discusso e cerchiamo di concentrarci lato campo oggi che possiamo farlo. In realtà c'è un'ultima notizia che voglio commentare insieme a voi perché ieri è stato votato in Parlamento anche il nodo lotito che prevedeva l'aumento dei diritti televisivi da 3 a 5 anni, è stata respinta questa proposta, quindi ora prepariamoci a vedere riformulate delle nuove offerte per il nuovo triennio dei calci in Italia con tante disdette, anche se qualcuno vuole far credere che siano soltanto 6.000 e sembra un numero decisamente basso, anche solo evidenziando quelle che sono state poi le reazioni di Dazon, di Sky e varie. Vedremo che cosa succederà, vedremo se entreranno nuove competitor, come potrebbero essere appunto Amazon Prime o Paramount, che avevamo già citato, e vedremo soprattutto, ed è una cosa che siccome il tifoso deve importare più di tutto, se ci saranno delle altre esclusive come c'è stato in questa stagione, perché sarebbe bello avere un mercato abbastanza libero in cui tu possa andare a scegliere quell'emittente perché ti garantisce dei pacchetti più convenienti in cui comunque puoi vedere tutta la Serie A piuttosto che un'altra. Negli ultimi tre anni siamo stati obbligati a scegliere per forza di cose Dazon per la Serie A, Sky per la Champions o Made Asset Infinity per la Champions, iniziano ad essere cose abbastanza complicate da unire, perché ovviamente poi il tifoso deve pagare più pacchetti per avere tutto il calcio a disposizione, tutte le partite della propria squadra del cuore. Questa cosa non è secondo me simpatica, quindi vediamo come verranno redistribuiti i diritti televisivi in Italia per i prossimi anni, quella di ieri è una notizia direi abbastanza importante, ma ancora più importante ovviamente è parlare della partita di oggi. E quindi, probabile formazione, io vi ho messo giù questa, non so se sarà esattamente questa, perché solitamente prima di fare video di questo tipo mi faccio una bella carrellata di informazioni online, vado a vedere vari siti di informazione, vado a vedere quello che twittano i giornalisti, vado ad ascoltare quello che dicono gli addetti ai lavori e cercare di ricostruire, poi incastrare queste informazioni e portarvi quella che dovrebbe essere la probabile formazione. Oggi è stato un po' più complicato, perché in realtà basta fare un giro per il web e si può vedere ogni pagina, ogni testata, ogni giornalista che ha delle informazioni diverse, segno che probabilmente anche Allegri o non l'ha ancora deciso o non c'è stata la volontà di diffondere quelli che sono i giocatori effettivamente testati, provati per la partita di stasera, io provo a spiegarvi un po' anche le motivazioni che mi hanno portato a dire queste cose. Allora, Cesni in porta, non c'è niente da dire, qua andiamo avanti. Bremer sicuramente giocherà, perché ieri era in conferenza stampa con Allegri, perché è squalificato la prossima partita di Serie A e quindi immagino che Bremer giocherà. Danilo è il giocatore che ha accumulato più minuti alla Juventus in questa stagione, è logico anche pensare, allora potrebbe riposare uno spareggio di Europa League dall'altra parte, ieri Allegri ha dichiarato che vuole provare ad avere quanto più vantaggio possibile già da oggi in attesa di affrontare il ritorno, quindi immagino che comunque andrà a schierare i giocatori titolari. È uno tra Rugani e Gatti, perché qua come fai a capire quale dei due? Potrebbero essere tutti e due come potrebbe essere Alexandro, banalmente, perché magari riposerà davvero Danilo. Immagino di no, potrebbe essere due brasiliani più un italiano, sembra una barzelletta ma in realtà è la difesa della Juventus, vediamo quale dei due potrebbe essere in vantaggio Gatti, Rugani se giocherà Gatti invece Danilo andrà a sinistra, Gatti andrà a destra. Paredes perché abbiamo visto Locatelli in tante partite, quindi immagino che potrebbe giocare Paredes una partita di questo tipo, anche se lì a centrocampo siamo in emergenza numerica, e lo sappiamo con gli infortuni Miretti, con Pogba che ancora non è al 100%, Rabiot perché è un altro degli insostituibili per Allegri, Fagioli perché è un po' che non lo vediamo e quindi potrebbe essere il suo momento di tornare all'interno dei titolari, un po' che non lo vediamo nei titolari ovviamente con continuità, perché comunque prima dell'ultima partita disputata con la Fiorentina, Fagioli era assolutamente considerato un titolare, l'ultima partita abbiamo giocato con un centrocampista in meno e quindi è venuto meno Fagioli. Kostic a sinistra, però lo stesso discorso di Danilo potrebbe anche respirare un pochettino con Ealing, ma secondo me non vedremo Ealing Junior dal primo minuto titolare in quella posizione, anche se Kostic avrebbe diritto pienissimo a una giornata di riposo. Desciglio a destra perché Quadrado è rientrato ieri, parola di Massimiliano Allegri, però non credo che voglia già rischiarlo così nell'immediato di giovedì, che possa invece volerlo tenere per la partita di campionato mi pare di domenica. E Di Maria Vlaovic davanti, allora io vi ho messo Di Maria Vlaovic perché quasi tutte le testate erano d'accordo con Di Maria Vlaovic e per me invece questa è una cosa strana perché Ken e Chiesa sono i miei due, non che farei giocare io ma che secondo me giocheranno cercando anche di capire un po' quelli che sono i piani di Allegri perché Ken è un po' che Allegri dice difficile tenerlo fuori, difficile tenerlo fuori, difficile tenerlo fuori. L'altro giorno ha sbagliato due o tre gol molto facili, stiamo parlando di una partita infrasettimanale e credo che in campionato Allegri voglia cercare di fare quanti più punti possibili. Tradotto mi viene più logico pensare di vedere Ken questa sera e Vlaovic in Serie A, però questo è un mio modo di ragionare, vediamo se sarà corretto oppure no. Di Maria Chiesa. Di Maria ha fatto una partita di sacrificio e di spegno energetico incredibile, incredibile con la Fiorentina, veramente incredibile. Quindi vedo difficile riproporre Di Maria dal primo minuto per poi privarsene perché Di Maria non potrebbe reggere tre partite in una settimana a questa intensità nella partita di domenica in Serie A, proprio per quello che dicevo prima. Credo che Allegri in questo momento voglia fare quanti più punti possibili in Serie A perché in questo momento, anche se ieri hai detto non so se siamo i favoriti contro il Nant, te la puoi giocare tranquillamente, anche con altri giocatori l'importante è l'approccio d'atteggiamento e l'impronta tattica che vai a dare alla squadra. Quindi sia da allenatore che dai giocatori ci devono essere delle risposte, ma non credo che con Ken invece che Vlaovic o con Chiesa invece che Maria tu sia impossibilitato a vincere contro il Nant. Non dovrebbe essere così, perlomeno nella normalità. Poi sappiamo che siamo all'interno di una stagione un po' così. Aggiungo che ieri Allegri ha detto che Chiesa ha recuperato perfettamente dopo la partita con la Fiorentina e questo significa che sta procedendo bene il recupero. Che è un po' il motivo per cui secondo me non ci sarà tridente, anche se è stata una delle ipotesi che ci siamo portati dietro anche nelle ultimissime ore, che potrebbe tornare fuori nel pomeriggio per capire se effettivamente l'Avivento giocherà tre davanti. Per due motivi, assenza di giocatori a centro campo e continuità nel provare un modulo differente. A maggior ragione è contro una squadra che dovrebbe essere abbastanza abbordabile come il Nant, che è sicuramente più abbordabile rispetto alla Fiorentina dove comunque c'è stato il tridente. Quindi io personalmente andrei di 3-4-3 o 3-4-2-1 che dir si voglia, proprio perché se abbiamo iniziato una strada, abbiamo preso una direzione, cerchiamo di migliorare quella cosa lì perché magari ci crediamo. Non ha funzionato la prima apparizione, ci sta, è logico, è naturale, è fisiologico, però bisogna dare continuità e provare. Allo stesso tempo non mi aspetto chiesa Vlaovic e di Maria tutti insieme perché addirittura io non mi aspetto nemmeno Vlaovic e di Maria insieme. Si potrebbe però optare per andare a schierare un rabbio in meno, quindi togliere il rabbio dall'equazione, mettersi con Paredes e Fagioli a centrocampo, togliere il rabbio perché ovviamente ne sta già giocando tante. Io adesso immaginiamocela senza Gatti, come vi dicevo prima, immaginiamocela con Ken, immaginiamocela senza Vlaovic e immaginiamocela con Chiesa, magari con la C davanti e senza Di Maria per i motivi che vi dicevo prima. Quindi immaginiamoci Chiesa da questa parte, Rabiot passa qua perché deve uscire dal campo e al suo posto entra Sule. Quindi la possibilità di far riposare un centrocampista come Rabiot che ne ha già giocate tante, la possibilità di far riposare Di Maria dopo aver speso diverse energie, la possibilità di far giocare a Chiesa due partite nel giro di sette giorni con ovviamente anche l'intento di cambiarlo e magari far far l'ultima mezz'ora o gli ultimi 35 minuti proprio a Di Maria per comunque mettere qualcosa nelle gambe o abbassare Ken qua e mettere Vlaovic, la possibilità di far fare qualche minuto a Sule nel suo ruolo naturale, quindi partendo largo a destra, la possibilità di dare continuità allo stesso modulo che abbiamo già provato e la possibilità comunque di interscambiare anche i giocatori perché poi eventualmente Fagioli potrebbe andare a ricoprire anche questa posizione, Paredes potrebbe spostarsi di qua, potrebbe entrare uno tra Locatelli e Rabiot, molto più probabilmente Rabiot perché Locatelli e Paredes insieme davanti alla difesa in un centrocampo a due, secondo me Allegri non ce li vede bene perché vuole diversità di caratteristiche all'interno del centrocampo, quindi avreste anche un po' più libertà secondo me di interscambiare i giocatori nei ruoli in cui si trovano molto bene, facendo anche un po' di turnover e comunque senza perdere chissà quale, oddio no, gli equilibri, no, gli equilibri rimangono, ci sono, i giocatori giocano nelle loro posizioni, è una squadra, il Nant, che ti può permettere di sperimentare e daresti continuità di rendimento a un'idea che secondo me è molto buona sulla carta, che non ha funzionato nella prima apparizione ma non mi aspettavo niente di decisamente meglio, bisogna, per migliorare le cose bisogna farle, più volte, riprovarle, anche quando le cose ti accorgi che non sono andate bene, accettare, riconoscere gli errori e cercare di migliorare perché sennò semplicemente non migliori mai, quindi questa è un po' la mia lettura, la mia presa di posizione, io questa sera sarò allo stadio ragazzi, quindi ci vediamo lì, seguite su Instagram come avete visto, è apparso il bannerino qui sotto pochi istanti fa perché metterò la storia e magari nelle note scriverò anche dove ci troviamo per fare due chiacchiere insieme prima di entrare allo stadio e berci una birra insieme, un abbraccio, a stasera